E adesso veniamo a parlarvi di Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa. Siamo nel blog di Uomini e Donne quindi sapete benissimo di chi vi stiamo parlando. Lui corteggiatore di Uomini e Donne di Veronica Rimondi. Lei corteggiatrice di Luca Salatino. Hanno in comune il fatto di essere arrivati entrambi alla fine del programma, ma entrambi non sono stati scelti. Ma ci sono anche due altre cose che accomuna i due. Infatti entrambi hanno molto bene impressionato il pubblico da casa di Uomini e Donne. Infatti entrambi sono fra i principali candidati al trono di Uomini e Donne per settembre. E non escludiamo che almeno uno dei due probabilmente tronista lo diventerà sul serio. Fra i principali candidati c'è anche Federica Aversano particolarmente nelle grazie della redazione di Maria De Filippi che hanno una grande stima nei suoi confronti. Uomini e Donne. Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa è veramente solo amicizia. Andrea Della Cioppa tronista di Uomini e Donne. Ma non solo infatti secondo Radio Web fra i due ci sarebbe una vera e propria simpatia. Per dire la verità da altre parti si parla proprio di una storia in piena regola. Corteggiatrice Lilli Pugliese. Lo stesso Andrea Della Cioppa comunque in settimana ha smentito che fra lui e la corteggiatrice Lilli Pugliese ci sia qualcosa che vada oltre la reciproca stima e simpatia. Ma nonostante questa smentita oggi sono ancora molti nel web che pensano che fra di loro ci sia qualcosa che vada oltre. Vediamo cosa succederà vi faremo in ogni caso sapere come evolveranno le cose fra di loro. Grazie. 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 Grazie.